Grazie a tutti. Parliamo di un piano fascista contro la magistratura o perlomeno contro alcuni magistrati definiti non graditi. Sono due le persone arrestate, i dettagli del servizio. La DIA di Caltanissetta ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per l'avvocato Stefano Menicacci e per Domenico Romeo. Sono accusati di false informazioni a pubblico ministero, aggravate dall'aver mentito in un procedimento per strage. L'inchiesta nasce da intercettazioni che avrebbero rivelato un progetto ispirato all'ideologia fascista, gli interlocutori si definiscono appunto fascisti, di costituzione di un osservatorio delle attività della magistratura, del quale dovrebbero fare parte anche componenti occulti per colpire alcuni magistrati non graditi. Il progetto, secondo gli interlocutori intercettati, sarebbe attivo. La DIA ha anche perquisito le case di Adriano Tilger, esponente di spicco della disciolta organizzazione Avanguardia Nazionale, condannato nel 1981 per la riorganizzazione del partito fascista, luogotenente dell'eversore nero Stefano Delle Chiaie, dell'avvocato Saverio Ingraffia e del docente universitario Francesco Scala. I decreti sono stati emessi dalla procura nissena per i reati di associazione a delinquere e di violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete. Le due vicende non sono collegate, se non parzialmente e solo da un punto di vista probatorio, si legge nel comunicato della procura di Caltanissetta. Cambiamo argomento, ancora cronaca, ha sequestrato un ingente quantitativo di cocaina oltre 5 tonnellate, in questo caso sono invece 20 le persone fermate dalla Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in collaborazione con la componente aeronavale del corpo, hanno portato a termine un'operazione volta a contrastare i traffici illeciti via mare. Grazie all'azione coordinata della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono stati fermati 5 soggetti, tra cui un italiano, due tunisini, un francese e un albanese, e sequestrate oltre 5,3 tonnellate di cocaina. E il più grande sequestro mai realizzato in Italia è uno dei più significativi a livello globale. L'operazione è stata condotta utilizzando numerosi mezzi aerei e navali, sia costieri che alturieri, appartenenti al Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare e al Reparto Operativo Aeronavale di Palermo. Le indagini sono state condotte in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e sotto la guida costante della Procura della Repubblica. L'area marittima interessata si trovava prospicente le coste dell'Agrigentino. L'operazione è partita dalla segnalazione del secondo reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha individuato una nave mercantile di interesse investigativo battente bandiera di Palau e l'avvicinamento di un motopeschereccio proveniente dalle coste calabresi emerso durante le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. Il Comando Operativo Aeronavale in servizio di ricognizione nel canale di Sicilia ha monitorato la nave mercantile e ha rilevato operazioni sospette di accumulo di pacchi sul ponte della stessa. Successivamente questi pacchi sono stati scaricati in mare in seguito all'avvicinamento del motopeschereccio italiano che aveva disattivato il sistema di localizzazione. Il motopeschereccio è stato quindi fermato e all'interno di un ampio locale nascosto dietro una pannellatura è stata trovata una grande quantità di stupefacente. Le unità del corpo hanno quindi inseguito la nave mercantile che stava tentando di allontanarsi senza successo in direzione della Turchia. Il peschereccio è stato condotto al porto di Porto Empedocle mentre la nave mercantile con un equipaggio di 15 persone di nazionalità ucraina, turca e azera è stata scortata dai mezzi navali del corpo verso il porto di Palermo. Le oltre 5,3 tonnellate di cocaina sequestrate, destinate al mercato nazionale avrebbero potuto fruttare oltre 850 milioni di euro. I soggetti fermati sono stati portati nel carcere Pagliarelli di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Catania la Polizia Postale ha individuato gli autori di una frode realizzata con il cosiddetto fenomeno del falso trading online. Vediamo di che si tratta nel nostro servizio. La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura Distrettuale Etnea, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale inerente a un deposito di criptovalute riuscendo a individuare i responsabili di una frode realizzata con il noto fenomeno del falso trading online. È uno tra i primi sequestri in Italia di monete virtuali eseguito dai poliziotti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Sicilia Orientale e rappresenta un importante passo in avanti verso il contrasto dei crimini finanziari online i cui autori spesso utilizzano questo tipo di moneta per evitare di essere identificati. L'indagine è stata avviata dalla denuncia di un cittadino catanese vittima di una truffa per complessivi 87 mila euro compiuta mediante investimenti online su una falsa piattaforma di investimenti. Il denunciante era stato invitato telefonicamente da un sedicente operatore a investire online seguendo i consigli di un professionista. Convinto della possibilità di facili guadagni dopo aver versato la prima tranche iniziava a visualizzare sulla falsa piattaforma ingenti profitti per capitalizzare i quali tuttavia avrebbe dovuto integrare con altro denaro. Indotto in una sorta di circolo vizioso la vittima aveva iniziato a investire ulteriori somme fino a raggiungere una considerevole cifra salvo comprendere alla fine di essere stato raggirato. Complesse e sofisticate indagini condotte da personale della polizia postale di Catania hanno consentito di ricostruire la catena di blocchi e individuare l'acconto deposito di criptovalute dove si trovavano i proventi illeciti identificando gli autori in un macedone e un albanese. Di particolare difficoltà si sono rivelate altresì le procedure per eseguire il sequestro delle criptovalute depositate in una società finanziaria ubicata all'estero. Le criptovalute sono state poste sotto custodia giudiziale. La polizia ha effettuato un arresto a Caltanissetta. Vediamo perché. La squadra mobile, nell'ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, così come disposto dal questore, ha intensificato i controlli nel centro storico di Caltanissetta. Avendo avuto notizia che un soggetto già noto alla polizia potesse detenere armi e droga, è stato disposto un accurato controllo. Al giovane, già in regime di detenzione domiciliare per altri reati, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, sono stati sequestrati una pistola giocattolo, artatamente modificata in arma comune da sparo, e occultato in vari nascondigli quasi un chilo e mezzo di hashish, oltre a materiale per il confezionamento della droga. La sostanza sequestrata, analizzata dalla polizia scientifica, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 15 mila euro. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale. Blitz di Goletta Verde nello stretto di Messina per dire no alla realizzazione del ponte Blitz di Goletta Verde di Lega Ambiente nello stretto di Messina nel tratto di mare che collega la Sicilia e la Calabria per dire no al ponte sullo stretto. L'associazione ambientalista, con uno striscione di 6 metri con scritto No Ponte, esposto via terra su una spiaggia di Messina e con la sua storica imbarcazione in azione via mare lungo lo stretto ha espresso la sua contrarietà per quella che ha definito un'opera faraonica utile solo a sperperare altri soldi pubblici. Un'opera che per Lega Ambiente ha distolto l'attenzione dalle vere priorità su cui in realtà si dovrebbe lavorare. In primis, migliorare il trasporto su ferro per collegare meglio le due regioni con il resto della penisola. Migliorare quello via nave con l'acquisto dei traghetti Rorò e convertire le flotte attuali in traghetti elettrici. Rendere più efficienti i servizi coordinando l'offerta per semplificare gli spostamenti e gli scambi tra treni, autobus locali e regionali e traghetti. Integrare tariffe e biglietti dei vari gestori migliorando l'offerta di viaggio per i pendolari con costi minimi per le casse pubbliche. Parliamo di calcio con il Palermo che ha presentato uno dei colpi di questo calciomercato estivo il giovane portiere De Planche. Sentiamo le sue dichiarazioni. Ho scelto Palermo perché Palermo è una piazza storica una città bellissima. Sono felicissimo di essere arrivato qua. Comunque quando appena è arrivata la chiamata del Palermo non ho esitato un attimo ad accettare e sono veramente contento di essere qua. Sicuramente un gruppo calcistico come il City Group dietro al Palermo è sicuramente una cosa in più che ci dà comunque tranquillità e ci dà sicurezza e ci permette di essere nella posizione migliore per giocare a calcio. Io sono un giovane, arrivo qua in punta di piedi con tanta umiltà e tanta voglia di lavorare. Il mister è stato chiaro con le gerarchie e quindi io dovrò solo lavorare al massimo per farmi trovare pronto quando ce ne sarà bisogno. Sicuramente è stato, ha avuto un impatto importante perché comunque ho fatto un cambiamento da Serie C a Serie B quindi ha avuto un bel impatto. È un'esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita perché comunque non capita tutti i giorni di giocare un mondiale con la nazionale però sicuramente adesso devo accantonare questa esperienza e pensare al mio futuro che è ancora tutto da scrivere. Volevo ringraziare Mister Tedino per la fiducia dell'anno scorso perché comunque è una squadra che si deve salvare non tutti magari scelgono di far giocare un giovane in un ruolo delicato come il portiere e sì, ci siamo sentiti, mi ha fatto gli in bocca al lupo e appunto volevo ancora ringraziarlo per l'anno scorso. Avere un portiere esperto come Mirko di fianco sono sicuro che mi aiuterà molto a crescere. Io come ho già detto in passato mi ritengo un portiere senza grosse lacune su un aspetto in particolare ma comunque che ovviamente sono giovane, ho vent'anni devo lavorare tantissimo sotto tutti gli aspetti per arrivare ad alti livelli. Mi sembra veramente un bel gruppo e sono molto felice di essere qua. Ovviamente ho legato un po' più con i giovani come è normale che sia ma anche i più esperti sono molto simpatici. Dal Palermo al Catania presentazione anche in casa rossa-azzurra si tratta in questo caso della centrocampista Ladinetti e allora sentiamo anche le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Catania. Sono molto molto felice di essere qua è una piazza molto importante lo dice la sua storia lo dice i giocatori che sono passati qua come hai detto tu appunto il mio ruolo serve molta precisione ma servirà anche altro quest'anno e lo metteremo tutto. Mi hanno fatto capire da subito come ragiona la società qual è la mentalità qual è il progetto di questa società non solo in base a quest'anno ma in base proprio a due, tre, quattro anni. È un progetto molto interessante infatti non potevo scegliere piazza migliore per la mia stagione per le mie stagioni. Io come idolo ho Busquets quindi la dice lunga su come piace a me il calcio mi piace molto il tiki-taka diciamo dai molto giocare bene uscire dal basso tutte queste cose per poi arrivare a fare i tanti gol. Io sono vissuto in Sardegna fino ai 20 anni, 21 anni quindi appena sono arrivato mi è impressionato che sembrava quasi di non essere andato via da Cagliari e spero di innamorarmi anche di questa mataterra. Speriamo un gol, un assist subito alla prima partita se no comunque spero che la prima partita sarà una bella vittoria così a rendere fieri i tifosi perché a me è impressionato veramente ho visto tanti tanti video della scorsa stagione mi venivano i brividi solo a vedere tutti quei tifosi allo stadio. Qualche mio ex compagno anche dall'anno scorso mi hanno detto di certo non sbagliavo se venivo qua ma io non ho avuto alcun dubbio cioè non ho mai dubitato di questa cosa. Vi aspetto tutti allo stadio speriamo in una grande stagione aiutateci anche voi con il vostro tifo. Forza Catania! E chiudiamo con un atteso evento ovviamente in Sicilia Calici di Stelle 30 cantine siciliane dedicano agli appassionati del vino esperienze enogastronomiche uniche che accompagnate da arte e musica celebrano la ricchezza e la bellezza del territorio con Calici di Stelle l'evento estivo più atteso da enoturisti e wine lover promosso dal movimento Turismo del Vino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino evento che torna dal prossimo 28 luglio e fino al 20 agosto con un calendario ricchissimo e che vede nella notte di San Lorenzo il 10 agosto la giornata clou attraverso la perfetta combinazione di vino astri e convivialità Calici di Stelle mette insieme le iniziative delle cantine del movimento Turismo del Vino Sicilia con degustazioni, spettacoli e non solo in cantina ma anche in luoghi suggestivi come la splendida Real Cantina Borbonica di Partinico il Castello di Salemi e il Centro Storico di Castiglione di Sicilia l'edizione 2023 di Calici di Stelle è stata presentata a Palermo alla presenza del presidente del movimento Turismo del Vino Sicilia Stefania Busà del coordinatore Città del Vino in Sicilia Leonardo Ciaccio del presidente di Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti e dell'assessore comunale alle attività produttive di Palermo Giuliano Forzinetti il movimento punta nella produzione del vino attraverso un approccio culturale e responsabile potenziando il dialogo e la collaborazione con quanti vogliono sostenere la cultura del vino e il valore dell'enoturismo è tutto a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia www.mesmerism.info Autore dei sovrapposti